Dunque ragazzi, Cesar Falletti è il primo acquisto della Cremonese per quanto riguarda il mercato invernale di Serie B 2023-2024. L'ufficialità non c'è ancora, l'annuncio è atteso a breve, ma vi posso garantire con certezza che appunto il trequartista uruguaiano che arriva dalla Ternana sarà a brevissimo a disposizione di Mr. Stroppa. Il contratto dovrebbe essere di due anni e mezzo con un ingaggio superiore ovviamente rispetto a quello che prende adesso Terni, un ingaggio importante, 600.000 euro, quindi ragazzi è un investimento importante della società che crede fortemente in questo giocatore. Falletti poteva arrivare a parametro 0 a giugno ma la società che il giorno si ha deciso di anticipare l'acquisto per rilevandolo per una cifra intorno ai 500.000 euro. 300.000 di parte fissa più, circa 200 di bonus legati a presenze, gol, vittoria dei playoff, promozione appunto in Serie A. Parliamo un attimo della posizione tecnica, tattica scusate, tattica in campo. Lui nasce come trequartista naturale ma può gire anche da mezzala, da esterno alto d'attacco e da seconda punta, quindi potrebbe essere un'ottima soluzione per la cremonese, perché lo vedrei molto bene in mezzo al campo, sia come mezzala a posto di buon aiuto, che ne avrà per tre mesi ancora, o come spalla per coda. Voi cosa ne dite? Perché si è parlato anche di caso, forse se ne parlerà più avanti, però intanto abbiamo falletti e che non è una cosa da poco ragazzi, perché da terni si stanno strappando i capelli ovviamente. Possiamo dirlo che nel suo piccolo ha fatto la storia della ternana, 236 presenze, 49 gol tra Serie B e Serie C. Il giocatore più tecnico e importante della Rosa, delle fere, era anche il capitano, è il capitano, vabbè. Un bravissimo ragazzo e da terni veramente ne parlano tutti, tutti veramente bene. E questa cosa diciamo può far solo sorridere noi tifosi grisio-rossi. Si tratta di un simile Vasquez, forse un pelino più, un pelino meno tecnico, ma più mobile, molto più mobile di Vasquez, quindi darà una grossa mano alla cremonese. Vanta anche un gol in 13 presenze in Serie A con Bologna. L'anno in cui, se non mi sbaglio, comprarono sia Falletti che Avenatti dalla ternana. Corrigetemi se sbaglio. Ho già un soprannome per lui, 31 anni, 1,70 m, il folletto Falletti ci farà divertire. Questo ve lo garantisco. Lo reputo, lo reputo un buon acquisto, un buonissimo acquisto. Fosse arrivato due o tre anni fa, sarebbe stato ragazzi un acquisto devastante. Forse è un pelino in calo, forse è, forse è un pelino in calo, ma è comunque un giocatore di grande tecnica e quindi i giocatori di grande tecnica sono veramente ben accetti. Se volete ragazzi restare informati sulla cremonese, in anteprima, su tutto quanto riguarda il mondo grisorosso, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo ben presto, perché il mercato è iniziato solo ora e ce ne sarà di tutto di più. Ce ne saranno delle belle, sia sul campo che fuori dal campo. Fatemi sapere cosa ne pensate di Falletti qui sotto nei commenti, un bel like e ripeto un'iscrizione al canale. A presto ragazzi!